C'è ancora tempo che il governo ha cambiato durante la campagna, non è molto benvenuto che la via di Trump è che il grande è morto, però se non so, poi il ministro del presidente attuale, che non si ha cambiato sempre, il ministro di justizia, il ministro di milioni, eccetera, non si ha cambiato il ministro per il ministro di MNS, che è il ministro di Minosà, per il suo ultimo Kiko Bopuntre e Inosà. C'è ora, e attuma personalmente, e sa qui ovvi, che è bisogno di avere una vita in un'area grande, e l'abbiamo con il progetto area, dove c'è un progetto leader con differente persone per dare il progetto qui, e lo che noi possiamo riparare è che l'area è un'area 51 in America, dove gli alieni sono appassati, non c'è una nuova visione in un'area. Quindi, cosa succede? Ora, e l'abbiamo a Sinaliucca, per un cambio di governo, e l'abbiamo con il progetto che non è stato trazione, e l'abbiamo con un altro ministro, e il ministro di Quattume è attuale, per l'abbiamo con il comienzo di juli, ha firmato un accordo con un architetto, non si ha detto che aveva un open bar ambestading, o che aveva un underhance ambestading, e le abbiamo chiamato una piatta di Pueblo, per l'abbiamo con il comienzo di giustificare, per l'abbiamo con il progetto che aveva un'area grande, e non si ha detto che un architetto abbia un'area 2 flore per dare un'area grande, quindi, per l'abbiamo con il comienzo di giustificare, e l'abbiamo con un'area di giustificare, e ora ci ha detto, e l'abbiamo con un'area di giustificare, ok, qui c'è una soluzione di red? E ora ci ha invitato un ministro di qui, abbiamo contatto con il ministro di Deporti, e l'abbiamo con il insegnanza, però ci ha detto che aveva una soluzione di presentare, che aveva un'area di rinnovazione, dove abbiamo accordo con il Canada, con un'area di medicina di Canada, con la parte di Giuliana Scuola, Riena Beatrix, e ora ci ha detto che aveva un'area di rinnovazione, e ora ci ha detto che aveva un'area di medicina, e il campus è venuto un'area grande. Se vuoi creare un altro tipo di economia di Caglia Grande è di due pizze, cambiare il camberna per l'alumno, quindi il campus di Bira Inan, vuoi stimolare un altro tipo di economia di Caglia Grande. Noi, mi stiamo sincero con noi stiamo, mirando il sistema che ci sono comprati a cambiare, ci sono costruzioni online, e ora è necessario per creare un altro tipo di economia per Caglia Grande. E se vuoi per la caglia di Caglia Grande, Amsterdam, Groningen, per esempio, non ci sono stati studiati, studiati non ci sorgono per la vita di Caglia e movezioni in Amsterdam junto con il turismo, e ci sono stimolato la economia qui non ci sono. Quindi, a noi, a noi, a noi, a presentare, ci sono l'accordo di un Ministero di Educazione di Densi Overdruggs formulare, accordo di un accordo firmato con il commerciante, non ci sono stati, e, anche, lastimamente, non ci sono stati, per la governazione, non ci sono stati di continuazione, ma caglia di Caglia ha un altro progetto con il soluzione, non ci sono stati. Densi, per mirare con il che sta passando, non ci sono stati, non ci sono stati fondato con il corso, grande, però a noi direzzi, a binco è soluzione con noi per stimolare il saque.